Oggi presso l'ospedale San Pietro si è tenuta la prima edizione, spero di tante, la prima edizione di una mostra di Marina Rapone, un'artista visiva e anche multidisciplinare, la quale ha rappresentato attraverso una serie di sculture e attraverso anche degli abiti, quello che può essere l'opportunità di una persona che sta vivendo una sofferenza. La sofferenza a volte noi la viviamo e può essere dovuta magari a un evento spiacevole, a un imprevisto magari lavorativo e dico sempre che quello è più semplice da gestire. Poi abbiamo un altro tipo di sofferenza che è quella con cui noi psicoterapeuti abbiamo a che fare dentro chiaramente l'ospedale e nei nostri studi ed è quella che è una sofferenza dovuta alla malattia. Perché è più complessa e più difficile da gestire? Perché chiaramente c'è un terremoto, c'è una destabilizzazione, la persona si sente disorientata e lì può avere l'opportunità, tolto il primo momento della diagnosi e tolto il primo momento anche di essere indirizzata alle terapie del caso, può essere l'opportunità per attivare un cambiamento, un momento in cui l'attenzione ritorna su se stessi attraverso la sofferenza ma fa della sofferenza la possibilità di stare meglio. Questo io lo dico sempre, oggi Marina Rapone lo ha rappresentato nel suo evento e nella sua mostra perché durante il periodo della chemioterapia, un periodo per lei difficilissimo, ha potuto realizzare molto traendo praticamente l'ispirazione dal mare e utilizzando, come ha spiegato durante la mostra, quelli che possono essere i materiali di risulta, quello che il mare offriva e aggiungendone ovviamente di propri. È un po' l'esempio questa mostra di quello che tutti dovremmo fare quando qualcosa non va o quando, come dicevo, la malattia destabilizza e devastra la nostra esistenza, ovvero cercare di capire quello che noi siamo, cercare di capire quale può essere il nostro punto di forza e poter realizzare un nuovo benessere. Perché io dico sempre che la vita può essere una discesa, quindi facile, ma ne film. Il più delle volte invece è densa di ostacoli e quelle sono le nostre opportunità. Sembra una fase fatta, ma in realtà è l'occasione per poter in qualche modo rialzarci, recuperare una nuova vita e forse quella più veritiera e che ci fa uscire quelle che sono le nostre competenze, le nostre consapevolezze.